Una buona serata dalla redazione di ETV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale di informazione sportiva. Oggi ci concentriamo sul calcio e iniziamo dalla serie B perché parliamo dell'Ascoli. Parliamo di Ascoli, si compone lo staff del mister William Viali che porterà con sé dal Cosenza il preparatore atletico Giovanni Saracini che ha fatto parte del team di lavoro di Antonio Conte ai tempi del Siena e poi Nazareno Salvatori che si occuperà del recupero degli infortunati. Cosa diversa per Simone Baroncelli, vice di Andrea Sottil nella stagione 21-22, non è ritenuto uomo di fiducia del nuovo mister del Picchio. Per quanto riguarda invece il preparatore dei portieri Andrea Mazzantini, arrivato l'anno prima dell'approdo di Roberto Breda, ebbene a buone chance sembra di restare. Ed ora invece ci spostiamo in serie C perché parliamo dell'Ancona, in particolare grande prima mossa di mercato della società Dorica perché l'Ancona ha annunciato il rinnovo del contratto di Tommaso Barnabà. Il nuovo accordo siglato sarà valido fino al 30 giugno 2025, prosegue dunque l'esperienza in bianco-rosso del giovane con l'augurio di raggiungere insieme importanti risultati. Questo è proprio ciò che si legge nel comunicato della società bianco-rossa. Il club ha piazzato il primo colpo di mercato, o meglio il primo rinnovo, con il DS Micciola che ha speso belle parole riguardo a questo giovane difensore. Ha detto in particolare che è un ragazzo che capisce l'importanza dell'opportunità di giocare ad Ancona. La prima volta che ci siamo conosciuti durante il ritiro di Caccia, accettò di venire in prova viaggiando di notte pur di farsi trovare subito pronto. Dunque veramente delle parole straordinarie nei suoi confronti. E il DS Micciola per questa sessione di mercato ha due obiettivi in mente. Quali sono? Abbassare il monte in gaggi attraverso qualche cessione e individuare anche un difensore centrale a cui affidare le chiavi della difesa dorica. Il direttore ha ricevuto chiamate dai rappresentanti di Riccardo Carnielutti del Gelbison e Luca Crescenzi del Siena. Alla società bianco-rossa interessa invece il profilo dell'attaccante della reggiana Marco Rosafio, ma sarebbe un acquisto troppo oneroso e non rispetterebbe i punti cardine del mercato prefissato dal club. Insomma bisognerà ancora vedere quali saranno le scelte operate sul mercato. Ed ora dalla serie C scendiamo di categoria, andiamo alla serie D. Perché la Vigor ha dato un bell'annuncio. Infatti Lorenzo Mancini indosserà la casacca rosso-blu nella prossima stagione. Trovato l'accordo con il presidente Franco Federiconi e la dirigenza che tanto volevano trattenere questo giovane in squadra nonostante la concorrenza. Lorenzo Giolli, inesauribile dello scacchiere di mister Aldo Clementi, e reduce infatti da una grandissima stagione. Ci ha messo lo zampino più volte in zona goal con assist e reti pesanti. Sette in totale. Niente male insomma per un centrocampista che spesso e volentieri è stato anche adattato nel ruolo di terzino. Questa dunque è l'ennesima conferma di una società che nonostante le grandi richieste che sta ricevendo per i giocatori sta compiendo grandi sforzi per costruire una Vigor importante. Questo è stato ciò che ha affermato la società con l'annuncio appunto che Lorenzo Mancini resterà anche nella prossima stagione. E questa era l'ultima notizia. Come sempre vi ricordo di controllare tutte le nostre notizie sempre aggiornate di sport e non solo sul nostro sito www.etvmarche.it e poi sulla nostra pagina Facebook e ovviamente sulla nostra app. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti!